Buongiorno, mi chiamo Elisa Paolillo, sono pedagogista e counselor e mi occupo di percorsi di crescita e in particolar modo quindi di educazione. Il mio intervento è rivolto soprattutto ad adulti, nel sostegno alla genitorialità, nelle relazioni di coppia e nelle relazioni familiari in generale. Mi occupo anche di disagi che non riguardano la famiglia o di volontà di voler aprire la vita, volontà di crescita e di supervisione anche di equip lavorative a livello pedagogico chiaramente. L'incontro di sabato 10 in biblioteca è un incontro sull'educazione e l'educazione è un tema veramente centrale nella società di oggi in cui l'uomo si trova ad essere disorientato per varie caratteristiche appunto di questo tipo di società e parleremo delle possibilità che anche il disagio, il malessere di figli, bambini, adolescenti in generale portano nella vita magari dei genitori, delle persone, degli insegnanti ma in un'ottica nuova, come si possono rivelare in realtà delle opportunità di crescita e di trasformazione per tutti. Quindi grazie e ci vediamo sabato 10.